Hi guys, benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale, io sono Luca questo RiffLab, innanzitutto buona Pasqua a tutti quanti e a me non è arrivato l'ovetto, l'uovo con l'uovo pasquale ma è arrivato direttamente un bel pacchettino mobile che ho comprato dall'IKEA, più o meno fatto in questa maniera, lo faccio vedere qui, è fatto così e lo monterò praticamente, è azzurro, la mia dolce metà voleva che fosse di un colore e non bianco, quindi l'ho preso azzurro e praticamente andrà in questa posizione, poi dopo lo monto, ve lo farò vedere, andrà praticamente qui per poi mettere tutta l'elettronica che ho all'interno della vasca e metterla qui, mi metto a montarlo e poi ragazzi, poi ci vediamo per spostare tutto dalla Samp all'interno del mobiletto e volevo augurare buona Pasqua a tutti gli iscritti e grazie per seguirmi ragazzi che non credevo ci fosse tanta gente che seguisse l'acquariopilia marina ma appunto ho visto comunque che ci sono appunto parecchi appassionati a lobby che piace appunto vedere sia video, scoprire cose nuove o appunto aiutare anche gli altri e nada mas gente come sempre dico ci vediamo al prossimo video, a buona Pasqua!